Allora, la frustrazione crea violenza, la violenza è sempre produzione di frustrazione, sempre così, o no? Per forza. Quando non sai fare niente e giochi a pallone, l'unica speranza è spaccare le gambe al bravo centroavanti. Quando fai parte della storia? No. Vieni cancellato dalla storia, se non come quello che ha spaccato le gambe a quello bravo e non gli ha permesso di continuare ad essere bravo. Ma se tu sai fare, giochi a pallone, non hai bisogno di spaccare le gambe a quell'altro. Sì o no? Giochi, vedi. A volte vinci, a volte no, dipende dalla tua bravura. Quando non sai fare niente, iniziano delle cose che si chiamano invidia, arroganza, prepotenza. Tutto questo genera violenza. Ma se tu sai fare bene le tue cose, perché devi invidiare? Invidiare chi? Uno che è più bravo di te? Io non ho mai invidiato uno che è più bravo di te. Non ho conosciuto i tanti. Ho conosciuto tanta gente, più colta di me. che ha fatto un sacco di cose. Anzi, mi sembrava bello poterci stare insieme un'oretta, parlarci con uno più bravo di me. Perché se volete giocare a tennis, imparare a giocare a tennis, non dovete giocare con raccattapalle. Dovete giocare con quello bravo. E cosa succede quando giochi con quello bravo? Perdi 6-0, 6-0. Ma impari. Quello mediocre, magari vinci pure, ma non impari niente. E dovete andare avanti nella vostra vita. Capito? Dovete andare a guardare oltre. Dovete conoscere le cose che non vi piacciono. E poi dovete trovare dentro di voi, e ce l'avete, perché ce l'abbiamo tutti, il coraggio per dire questa cosa qui non mi piace e la cambio. Il mondo non è stato fatto dai violenti. I violenti hanno distrutto il mondo. E ci hanno provato tante volte con le guerre, con i massacri, con le dittature. Però poi ci sono stati piccoli uomini straordinari, che sono stati più forti, più forti, di tanti eserciti, di tanti dittatori. Il mondo è quello che non avere è stato fatto. La storia è stata fatata. Grazie.